Rinvenuto senza vita il corpo di Maria Amicone, il ritrovamento della 92enne scomparsa a Sessano del Molise questa mattina intorno alle 10 in un sentiero boschivo distante circa due chilometri e mezzo dalla casa di riposo cittadella Mariana di Padre Pio da cui nel pomeriggio di domenica la donna si era allontanata per una passeggiata. Ad effettuare la macabra scoperta nel percorso che da dietro una chiesetta si inerpica su una montagnola una squadra dei vigili del fuoco. La zona si configura fra una strada brecciata e un vecchio sentiero quindi marginalmente ci sono queste due strade che fanno da perimetro, da confine a questa zona. Il ritrovamento presumo che venga effettuato soltanto oggi perché in base alle nostre procedure noi abbiamo effettuato le ricerche nelle zone più adiacenti il punto di ultimo avvistamento. Poi man mano che le zone vengono bonificate, le zone di ricerche man mano che vengono bonificate noi ci allarghiamo nelle zone più più distanti. Infatti questa zona qui è stata diciamo designata proprio questa mattina ed è stata assegnata alle prime squadre che sono arrivate qui sul posto. Si concludono dunque nel peggiore dei modi le lunghe e meticolose ricerche scattate sin dalle prime ore dalla scomparsa. Cinque giorni di ricerche che a terra hanno impegnato con l'ausilio dei cani molecolari, vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino, protezione civile ed anche diversi volontari. Dall'alto alternatisi in volo il supporto di elicotteri dei vigili del fuoco, della polizia e della guardia di finanza. Del caso si è occupato anche la nota trasmissione chi l'ha visto. In realtà con il passare delle ore e dei giorni il triste esito è apparso via via più probabile, giunti sul posto intorno alle 11 familiari della donna. Affranti si chiedono e chiedono come sia stato possibile per lei percorrere a piedi da sola quella a distanza per di più in una stradina impervia. L'altra domanda, ma quella darà risposta all'esame autoptico, la fascia temporale in cui è avvenuto il decesso.